30 anni di storia dal Sinodo al Giubileo, questo è il titolo del suo libro. Cosa l'ha spinta a stringere l'obiettivo su questi 30 anni della Chiesa locale? Mi sembrava un fatto normale, considerato che dal 63 al 78 noi abbiamo avuto la fase del dopo-concilio, del concilio e del dopo-concilio, era giusto capire come questo dopo-concilio fosse recepito e sviluppato nella diocesi di Agrigento. Dunque era un fatto naturale che io continuasse questa ricerca che ho attinto al bollettino ecclesiastico agrigendino, all'amico del popolo, ai giornali del tempo, ai quotidiani, ai giornali parrocchiali. Ed è venuto così questo strumento che è una sintesi di un cammino di Chiesa. È un libro che pone la Chiesa nel rapporto con la spiritualità, con le scelte pastorali che la Chiesa Agrigendina ha fatto, il rapporto Chiesa e società, Chiesa e mondo. In questi 30 anni di attività sono più le luci o più le ombre? Beh, è una domanda molto difficile. Io penso di avere scelto come criterio di lettura un motto di Monsignor Bomarito, senza fretta e senza sosta. La Chiesa Agrigendina in questi 30 anni si è posta così, senza fretta, nel camminare, nelle scelte, nel raggiungere le mete, ma nemmeno senza sosta perché alla fonte di tutto c'è lo spirito del Signore che suscita nei cuori i percorsi e anche fa capire le mete da raggiungere. È stato, devo dire, un periodo molto bello che ha interessato, innanzitutto tre vescovi, Monsignor Pedralia, negli ultimi due anni del suo episcopato, dieci anni di Monsignor Bomarito e vent'anni di Monsignor Carmelo Ferraro. Un lavoro, diciamo, di una certa fatica, ovviamente, però ho voluto dare così uno strumento alla Chiesa Agrigendina per avere memoria di quanto è stato fatto. Che Chiesa Agrigendina racconta Enzo Di Natale? È la storia di una Chiesa che ha mostrato molta vivacità nei 30 anni presi in considerazione, con delle lacune che ogni storia di persona o di ente registra, ma che segna l'inizio di un cammino, di un processo di sensibilizzazione, di partecipazione che non è indifferente. Questo bisogna darne atto a Enzo di averlo evidenziato in questo suo bellissimo libro.